Il Friuli Venezia Giulia ha tante anime quante eredità culturali e le loro tracce si trovano in ogni declinazione della sua storia viva, nelle lingue e nei dialetti, nelle strade, nelle architetture e nelle opere d'arte. In questo viaggio abbiamo scelto di ripercorrere alcuni momenti significativi che hanno reso indissolubile il rapporto tra la Serenissima Repubblica di Venezia e questa regione. Inizieremo da Grado, la cui nascita è inestricabilmente legata ad Aquileia. Entreremo negli sfarsi cinquecenteschi del Giardino della Serenissima, a Saccile. Arriveremo infine ad Aurisina dove nelle sue cave la storia antica si mescola il contemporaneo grazie ad un progetto di residenze artistiche con l'Accademia di Belle Arti di Venezia.